Ciao ragazzi, come state? Come vedete sono super emozionata, anzi no, non lo vedete, però potete vedere il motivo per cui sono super emozionata. Qui davanti ho un nuovo calendario dell'avvento. Si tratta del calendario Marvel della Funko per gli 80 anni appunto della Marvel. L'ho acquistato oggi ragazzi, quindi io posterò il video proprio oggi, se qualcuno ha l'occasione vi consiglio di andare da GameStop, il prezzo già di partenza è fantastico perché loro vendono sia questo calendario dell'avvento che quello di Fortnite e quello di Harry Potter a 39,90. Prezzo che non avevo mai visto in giro perché di solito li ho tutti trovati intorno ai 50€. Oggi e solo oggi, a dire vero c'era anche ieri, ieri e oggi come promozione li vendono con lo sconto del 30%. Quindi ragazzi mi sono portata a casa il calendario della Marvel a soli 27,99€. Sono super mega contentissima. Sinceramente ci avevo rinunciato perché spendere 50€ mi sembravano veramente troppi soldi per dei personaggini che poi per quanto mi piaccia la Marvel non sapevo dove mettere. Invece adesso mi è venuta un'idea su tipo fare una mini bacheca. E quindi ragazzi sono stata no contenta di più. È stato un caso, sono passata lì proprio per caso. Quindi ragazzi super super happy. Quindi ragazzi tutti quelli a cui piace Fortnite, Marvel e Harry Potter vi consiglio immediatamente di correre in un GameStop. Se volete anche voi avere il calendario dell'avvento a questo super prezzaccio. Quindi iniziamo a... allora a sto punto sono rimasta un po' indietro perché oggi è il 10 quindi andrò ad aprire 10 caselline di questo super mega fantastico calendario. E poi lo continuerò insieme a quello delle LOL Surprise e di Yama. Perciò andiamo subito ad aprirlo. Allora si apre lateralmente. Quindi togliamo via questo. E qui abbiamo la scritta gigantesca Marvel, classica. Più delle stampe dei personaggi, tra i numeri iconici o quel di una volta, dei personaggi appunto della Marvel. Quindi c'è Iron Man, Thor. Lei sinceramente non ho ancora capito chi sia. Perché mi sembra Catwoman dalle orecchie, ma Catwoman, se non ricordo male, della DC. Non lo so chi è. Se lo sapete voi scrivetemelo giù nei commenti. Qui abbiamo Rocket, Hulk, poi Capitano America, Okai, Visione, Vedova Nera. E poi c'è... aiuto... Dr. Strange. Ecco, lo sapevo, mi veniva. Figurate se non mi veniva. Mi piace tantissimo come personaggio, anche l'attore che lo interpreta. Sinceramente mi piace molto. Però il mio preferito in assoluto è sempre Robert Dwayne Jr. che fa Iron Man. Lui è un mito. Ok, andiamo ad aprirlo. Wow. Ragazzi che emozione, veramente. Sono contenta di più. Ok, allora. Stai un po' aperta qui, perfetto. Quindi a sinistra abbiamo le stesse immagini che abbiamo visto prima. Quindi eccole qua. Alla nostra destra abbiamo altre immagini. Anzi, tra l'altro abbiamo un'aggiunta. Qui insieme a Dr. Stranger abbiamo anche Black Panther. Mentre qui insieme a Hulk c'è anche Ant-Man. Ok, andiamo ad aprire. Sono in ordine cronologico. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e via dicendo. Perciò partiamo dalla prima casella. Vediamo. Super emozionata. Allora, c'è un mini funco dorato. Un mini funco dorato che sinceramente ragazzi non ho ancora capito perché fanno anche i funco dorati. A me non piacciono proprio per niente. Preferisco i colori originali. Allora, vediamo chi è. Credo che sia Iron Man. Sembrerebbe di sì. Qui ho perso un po' di colore. Sì, direi che è Iron Man. Mi sembra Iron Man. Vediamo un attimino, scusate. Sì, è Iron Man. Direi che è proprio Iron Man. Versione dorata. Però sinceramente questi qua dorati non mi fanno impazzire. Non lo so. Non si muove. È fisso. Però insomma è anche marchiato Marvel. Vediamo cosa c'è scritto. Funco 2019. Sì, oddio. Vabbè, dorato non mi dice niente. Perciò andiamo avanti. Apriamo la casella numero due. E abbiamo trovato Capitano America. Molto carino. Per quanto questo personaggio sinceramente non mi piaccia. Non so perché ho sempre avuto... Non so, forse è l'attore che non mi fa impazzire. Non so, non mi è mai stato molto simpatico. Però guardate anche lo scuro come è fatto bene. Mi piace molto. È piccolo e dettagliato. Questa è una cosa importante. Fa capire quanto ci tengono appunto al dettaglio, al prodotto in sé. Che bello, mi piace pure la parte dietro. Ok, va bene. Lasciamo stare i dettagli. Andiamo al numero tre. Abbiamo Hulk rosso. Caspita, è fatto veramente benissimo. Anche lui. Bello, bello, bello. Vado a vedere, i ragazzi sono fatti stupendamente. Devo assolutamente fargli una bacheca. Per tenerli in esposizione. Perché merita davvero. Poi apriamo la quattro e c'è Thor. Un mini Thor. Molto carino. Con il martello. I suoi capelli lunghi e fluenti. Il mantello. Carino. Molto carino. Sì. Mi piacciono. Poi, cioè, io sono proprio appassionata della Marvel. Ho visto tutti i film. Proprio mi piace. Anche se, devo sincerare, l'ultimo mi ha lasciato tanta tristezza. Molta, molta tristezza. Allora, vediamo nella casella numero 5. Qui troviamo. Allora, è Black Spider-Man. Ecco, ad esempio di Spider-Man, credo che Spider sia l'unico personaggio a Marvel di cui non conosco molto bene la storia, a parte il classico primo episodio in cui diventa Spider-Man, che ormai l'hanno fatto in tutte le salse. Però, non ho ricordi di quando diventa nero, quindi non so se Venom prende, cioè, se la particella di Venom va su Spider-Man e quindi diventa nero. Quindi non so ancora queste cose, perciò non spoileratemi, prima o poi le capirò e guarderò i film. Comunque, molto dettagliato. Guardate anche il ragno. Aspettate, vediamo se si riesce a vedere. Perché ha la testa talmente gigante che va a fargli ombra. Ecco qua. Bello, bellello. Sono contenta. Proseguiamo. La numero 6. Sulla 6 troviamo Loki. Con una bustina diversa da quelle altre, ok, va bene. Dettagli. Allora. Eccolo qua. Questo sicuramente è Loki, anche se non capisco perché è biondo. Ma se non è Loki, scrivetemelo giù nei commenti che magari mi sbaglio, però questo Elmo è proprio di Loki. Però è biondo. Quindi mi lascia un attimino perplessa. Non so se nella serie, appunto, a fumetti di una volta era biondo. Non lo so, sinceramente. Quindi, mi raccomando, scrivetemelo giù nei commenti. Voglio sapere al più presto sicuramente chi è questo personaggio. Però, insomma, credo che sia lui. Almeno l'elmo è suo, sono sicura. Quello del sì. Poi, andiamo avanti. Apriamo la casella numero 7. C'è qualcosa di nero. E abbiamo Venom. Venom, devo dire che è un personaggio molto particolare. Ho visto il film, dove proprio non c'entrava niente Spider-Man. E devo dire che mi è piaciuto anche come film. Guardate come caratteristica, cioè, guardate i denti come sono stati scolpiti. Bene, guardate. Cioè, è proprio nel dettaglio. Bello, bello, bellissimo. Proseguiamo con l'otto. Abbiamo Iron Man? No. No, è Daredevil. Eccolo qua. Questo è Daredevil. Tutto rosso. Molto semplice. Con le due corna. Non si vede neanche perché... Ecco, così lo vedete meglio. Daredevil come serie TV Netflix. Onestamente mi è piaciuta. Rispetto al film. Ormai le serie Netflix... Le fanno un po' di tutto su Netflix. Anche se, a quanto capito, adesso quando uscirà il nuovo canale della Disney, ne toglieranno tutte le serie Marvel da Netflix. Quindi, appunto, Daredevil. Poi, vabbè, Pugno di Ferro. C'è ancora Jessica Jones. Insomma, ce ne saranno di diversi. Apriamo anche il 9. Chissà se c'è anche una mini Jessica Jones. Starebbe molto carina. Questa è... Vedova nera. Mamma mia, che capelli che gli hanno fatto. Bella, però. Sì, devo dire che è molto, molto bella. Guardate anche la cintura. Bella, bellissima. Veramente. Ok. E, purtroppo, devo aprire l'ultima casellina. Quindi, che tristezza. Andiamo a vedere cosa c'è. Allora, questo dovrebbe essere Miles. Eccolo qua. Lui, sì, dovrebbe essere lui. Miles Morales. Se non sbaglio il cognome. Fa parte dell'universo, appunto, Marvel. E, guardate, ragazzi. Se non l'avete visto, guardate quel film. Perché è un film di animazione. È stupendo. Ma veramente mi è piaciuto tantissimo. Veramente bello, 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 bello. Infatti l'ho comprato appena uscito. Ma merita tantissimo, secondo me, almeno. Poi, ovviamente, ognuno ha i suoi gusti. Però mi è piaciuta tantissimo la storia. Quello che insegna anche la storia. Proprio bello, bello. Il multi-universo con tutti questi Spider-Man. Ballo, bellissimo, ok. Oggi mi sentirete parlare tanto di Marvel. Beh, a parte che ormai le dieci caselline le abbiamo aperte. Quindi, le abbiamo aperte. Quindi, ormai il video è quasi finito. E quindi, niente. Comunque, molto, molto carino. Quindi, adesso vi abbassare la videocamera. Così, vedete, i personaggi. Abbiamo dei classici Iron Man, Capitano America, Thor e Redova Nera. Poi, ci sono, vabbè, Loki, come extra. Hulk rosso. Lasciamolo insieme a Loki, che si divertono un po'. Poi, della serie di Spider-Man. Abbiamo lui, lui, Venom, Total Black. E poi c'è Daredevil, che rimane un po' lì da solo. Spero vivamente che ci sia anche Iron Man versione colorata. Probabilmente, non so, l'hanno fatto dorato proprio per... Perché è il migliore. Mettiamola così, ecco. È il migliore. Veramente, mi dispiace tantissimo. Vabbè, non voglio dire niente, perché magari chi non ha visto i film, non voglio spoilerare. Però, veramente... Niente. È mitico. Mitico. Ok. Bene, ragazzi. Quindi, mi raccomando, per chi è appassionato Marvel, Fortnite o Harry Potter, correre da GameStop, perché oggi è l'ultimo giorno dello sconto. E quindi, veramente, ragazzi, questo calendario, a quel prezzo lì, approfittatene. Ma approfittatene subito. Quindi, chiudete il video e scappate subito a prenderlo. Anzi, vi ricordo che potete acquistarlo anche sul sito di GameStop, come ho fatto io. E poi l'ho preso solo da ritirarlo in un negozio. Perciò, mi raccomando, forza! Facciamo girare l'economia, come si suol dire. Ok, quindi, ragazzi, cosa ne pensate di questo calendario? Io lo stra-adoro, mi piace tantissimo. Sono fatti tutti bene questi mini personaggi, sono proprio mini, mini, mini. E poi è anche iconico, proprio perché è per gli 80 anni della Marvel. Quindi, ci sta tutto. Mi raccomando, allora, pollicione in su. Iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo che potete trovare tutti i miei social giù in descrizione. E niente, noi ci vediamo domani. E continueremo ad aprire il calendario della Marvel, insieme anche a quello delle LOL Surprise e di Yama. Un bacione a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! Ciao!